Grossi disagi per i dipendenti del Sant'Anna che vanno al lavoro in auto. Il parcheggio bipiano a loro riservato da qualche settimana è stato aperto anche ai pazienti e agli altri utenti della struttura. La prima conseguenza è stata la difficoltà dei lavoratori nel lasciare l'auto in sosta, poiché viceversa non riescono ad utilizzare il posteggio multipiano sotto l'ospedale da sempre destinato ai visitatori. Il disagio è evidente, hanno sottolineato le rappresentanze sindacali unitarie. Sta capitando di frequente che per entrare in servizio senza ritardi i dipendenti lasciano le vetture fuori dagli spazi e dalle strisce regolari, con conseguenti multe. Il parcheggio, che fino a poco tempo fa era usato soltanto dal personale, era ovviamente a pagamento, con tariffe mensili. L'accesso era regolato da una specifica tessera, tessera che però sembra non essere riconosciuta nell'altro autosilo. Le aree di sosta e noto sono gestite dal comune di Sanfermo della Battaglia. Il parcheggio non era riservato in via esclusiva al personale, ha spiegato oggi il sindaco Pierluigi Mascetti. L'apertura del bipiano risale ai giorni del grande caos, quando in ospedale c'è stato il concorso per gli infermieri. Per quel che mi risulta, so che sono state fatte spostare quattro auto in tutto ed in multe ne abbiamo contate una decina. È evidente, aggiunge, che i posti dopo lo spostamento in via Ravona di tutto il personale non sono sufficienti. Stiamo studiando la possibilità di ricavarne di nuovo in uno spazio dietro il bipiano, ma dobbiamo fare i conti con le risorse che abbiamo a disposizione. Ad ogni modo, per quel che mi risulta, conclude il sindaco, nel multipiano i dipendenti possono entrare con le loro tessere, devono però contattare direttamente il gestore.